Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Lei è Lisa? Aspettate! E... riprendi solo tu! E lei è Anna? Noi siamo le Sister! Ragazzi! Aspettate! Loro sono le nostre luma macchine! Sono fantastiche e anche questi! Scusate ragazzi! Sono un sacco carine! Ma tanto! Ragazzi allora! Tra poco finiamo! Oggi noi siamo qui per farvi vedere queste luma macchine! Ok salutiamo! Aspetta! Se vi piacciono queste luma macchine mettete un... Tanti pollici in su! Iscrivetevi al canale sul tasto e iscrivetevi! E schiacciate qui sopra la campanellina! Ciao da Elisa e da mia sorella Anna! Ok! Ciao! Sorridi! E vi salutano pure le mini luma! Queste e anche queste! Ciao! Ciao! Saluta! Anna Anna! Ciao! Anna tu sorridi quando... Ciao! Una foto... E poi Anna... No no!